Continua anche oggi la nostra inchiesta sulle micro discariche abusive a Capodorlando. Ci troviamo in Contrada a San Filadelfio dove questa mattina un nostro telespettatore ci ha segnalato questa mini discarica che potete vedere qui alle mie spalle. Già da un anno c'erano sacchetti che non sono stati raccolti e per cui questo è stato ovviamente da pochi incivili. La massa degli incivili si è sentita autorizzata a fare una vera e propria discarica. Ci sono gli incivili e ci sono anche gli incivili che hanno anche interesse a fare questo perché non pagano la spazzatura ma questo è un problema che il comune sa. Io come proprietario di un terreno accanto ho segnalato già da un mese con foto e messaggio al sindaco, al presidente del consiglio Garepo che peraltro mi ha risposto e ai vigili questa situazione. So anche che una proprietaria qui vicino ha fatto un esposto ma non è successo niente, anzi tempo fa mi avevano detto che doveva essere pulita da un giorno all'altro. Io dico come cittadino che come comune siamo a questo punto un po' male perché il problema è grave per cui educare le persone ad essere civili non è facile se sono. Però è una cosa che da fare. Sicuramente le autorità hanno in mano gli strumenti per andare a beccare chi non paga e io non credo che questo sia impossibile perché chi non paga è quello che non ha nessun interesse a mettere la spazzatura abusiva davanti alla propria porta perché sarebbe un'autodenuncia e lo fa in giro per il paese. Questa è un'altra cosa ma poi noi cittadini possiamo ovviamente abbiamo il dovere di denunziare ma poi c'è chi ha il dovere di operare immediatamente anche perché credo che la spazzatura la paghiamo. Io la pago e credo che anche abbastanza dalle ultime bollette in maniera anche onerosa cioè bella piena. Per cui credo che sia un dovere denunziare ma anche un diritto ricevere i servizi nella maniera più immediata. La situazione sta diventando davvero paradossale invitiamo i cittadini a segnalarci altri casi del genere e ovviamente a denunciare l'inciviltà della gente che non può e non deve passare inosservata.